Mamma mia che gara e che dispiacere per Mattia Pasini che rientra in bel vito ai box in questo momento No, cerchiamo di rimanere in noi e di comprendere comunque il momento anche se evidentemente in queste situazioni la lingua scappa ma bisogna mordersela è comprensibile e dispiacere di Pasini però stop, andiamo a cercarlo in un momento di maggior serenità Era un punto da 220 km all'ora dove quando hai impostato una traiettoria cambiarla in tempi brevi è impossibile Evidentemente quando lui ha visto